Certo. Quanto contano i costi, dottor Iosa? Lei molto spesso si è rivolto agli amministratori, parlando appunto in questi appuntamenti, e ricordando che, ad esempio, bassa intensità di cura non significa bassi costi. Ecco, i costi per la nostra sanità quanto contano? I costi contano molto ed è illusorio che tutti gli attori, quindi i professionisti, gli amministratori, ma anche i cittadini, si rendono conto che quello che facciamo noi ha un costo che può essere anche molto elevato. E quindi il tema non può essere ignorato. Noi operiamo in un contesto che è purtroppo di risorse finite, entro le quali dobbiamo muoverci. E anche quando parliamo di appropriatezza, l'abbiamo fatto in qualche trasmissione precedenza, dobbiamo sempre ricordarci che la prestazione non appropriata data a qualcuno vuol dire il non necessario dato a qualcuno. Questo è il contesto in cui noi ci muoviamo, che è un contesto di equità. Cioè negare una prestazione inutile a volte è indispensabile per poterne dare un'altra che è importante. Detto questo, e quindi noi non possiamo prescindere da questo contesto, io credo che lo sforzo che come professionisti, come aziende e anche come riferimento regionale in questi anni è stato fatto di promuovere, di spostare molte risorse sul territorio, si debba tradurre in prospettiva anche un risparmio nei termini di costi. Ripeto, portare a domicilio un paziente rispetto alla soluzione dell'istituzione è un grande risparmio di costi, anche se nel breve periodo in termini di supporti sociosanitari può determinare un problema, fra virgolette, in termini di costi. Dottor Ballardini, Fadoi sta portando avanti questo progetto di riorganizzazione dei reparti di vigenza secondo il criterio dell'intensità di cura. Un progetto ambizioso, un progetto a cui voi, i medici internisti, davvero tenete in modo particolare. Che cosa si augura per l'immediato futuro? Per l'immediato futuro mi auguro che noi riusciamo a convincere tutti gli attori di questo percorso e dell'importanza di questo ragionamento, perché è assolutamente indispensabile vincere le resistenze che sono legate non necessariamente ai costi, ma anche semplicemente alla necessità del cambio di modo di lavorare. Mettiamo in prima fila noi professionisti stessi, perché nel reparto che tradizionalmente non è abituato ad occuparsi di certi pazienti o di pazienti gravi, il poter cambiare il modo di lavorare comporta una responsabilità grande e quindi un'acquisizione di competenze e di capacità di affrontare situazioni nuove. Lo stesso vale per la componente di assistenza. Il personale infermieristico in particolare è il personale sul quale si sta investendo molto e in effetti rispetto alle competenze che avevano anni fa in questo ambito stanno cambiando molte cose, cioè l'integrazione dell'assistenza legata alla crescita culturale del personale infermieristico è altrettanto importante che quella medica. Quindi la prima cosa è che gli attori ne prendano coscienza e ne siano profondamente convinti. il secondo passo è quello che i nostri direttori sanitari, i nostri direttori generali si convincano a loro volta e abbiano, come abbiamo noi, la percezione che questo può cambiare la qualità dell'assistenza che noi riusciamo a fornire ai cittadini. Vuole aggiungere qualcosa, Dottor Ballardini? No. Dottor Iosa? No, direi che su questo tema abbiamo detto quasi tutto. Questo auspicio, credo che viene da Giorgio, va sottolineato perché, come forse ho accennato anche in qualche trasmissione del Presidente, si tratta di una vera rivoluzione per gli operatori, cioè tutta anche la nostra formazione e in effetti anche la formazione universitaria in questo senso va rivista, era rivolta all'approccio col singolo quadro patologico, quindi ritorno su un concetto importante dalla singola patologia alla cura della persona. Sembra una cosa scontata, ma necessita di tutta una serie di passaggi anche organizzativi tipo quelli di cui abbiamo parlato oggi. Bene, noi avremo modo di continuare a parlare di Fadoi nel prossimo appuntamento venerdì sempre alle ore 19. Io ringrazio il Dottor Giovanni Iosa, Direttore dell'Unità Operativa di Medicina Interna di Cesenatico e il Dottor Giorgio Ballardini, Direttore dell'Unità Operativa di Medicina Interna dell'Ospedale di Rimini per essere stati con noi. Grazie ancora. Grazie nuovamente, grazie per essere stati con noi e per averci dato queste importantissime informazioni e mi auguro che i nostri telespettatori siano grati appunto di averne capito di più per quel che riguarda la medicina interna. Il nostro appuntamento termina qui, ovviamente vi ricordo ancora una volta Fadoi. Felice serata. No, 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 no. Grazie. 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 Grazie.